eccoci e bentornati sul mio canale ragazzi qualcosa di incredibile forse riesco a mostrarvi le primissime immagini del prossimo call of duty call of duty 2017 ovviamente non le posso mettere qui nel mio video perché non vorrei che mi venisse bloccato ve le metto qui sotto con il link in descrizione sulla pagina di call of duty italia infatti sembrerebbe essere nato un profilo twitter che ha svelato quelle che sembrerebbero essere le prime immagini del prossimo call of duty call of duty peoples army dove vedremo la schermata introduttiva il menu dove vedremo addirittura la modalità cinema e la prima schermata del multiplayer e queste presunte immagini del prossimo call of duty sviluppato dalla sledgehammer games sembrano confermare in tutto e per tutto l'ambientazione del passato quindi si torna con i piedi a terra chissà se queste immagini sono veramente quelle del prossimo call of duty però veramente fanno pensare a qualche immagine rubata e svelata con un grandissimo anticipo quindi andate a vedere subito sul profilo di call of duty italia fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate dopo averle viste e noi ci vediamo con tanti nuovi video se il video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale mettete un bel mi piace sul mio video e ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video sempre qui sempre sul mio canale